Adesso che sono nell'età del rimbambimento sono finalmente abilitata a guidarvi nella via del bambino saggio per entrare nella terra pura, sì, lasciate che questo tempo di difficoltà fertilizzi il vostro essere rendendolo degno, pronto di sorridere con saggezza a ogni difficoltà prendiamoci per mano e avviamoci, il tempo è maturo per sentire la vita dentro di noi che ci muove verso il coraggio, che ci muove verso la coscienza di ciò che siamo, della vita che siamo, che è indissolubilmente unita al principio della vita stessa che è la sorgente, la fonte. Andiamo, perché ogni difficoltà è una tromba che suona, è un canto che si eleva verso incontrare la vita che siamo e lasciare che sia la vita che siamo a vivere questo quotidiano. è possibile, è qui, sentiamolo, lo sentiamo attraverso la vita che vibra in noi. Grazie.